E il sogno di tutti i turisti, la casa dei Vettine, gli scavi di Pompei con le sue raffigurazioni erotiche, è finalmente visitabile. Alla inaugurazione ha presenziato il presidente del Consiglio Gentiloni. Questa meravigliosa città conservata Pompei e degli inserimenti anche di scultura, di arte contemporanea, è la presenza di tanti visitatori. Penso che sia un'atmosfera che ci fa ancora una volta essere orgogliosi e anche avere un po' la sensazione del privilegio di essere italiani, del privilegio di essere mediterranei, del privilegio di far parte di questa straordinaria eredità culturale. E' un'eredità che dobbiamo conservare, valorizzare, rendere compatibile con il modo di muoversi, fare turismo, viaggiare dei nostri anni. E penso che, e di questo ringrazio in particolare tutti i responsabili e il ministro Franceschini, stiamo dando da questo punto di vista un buon esempio qui a Pompei. E quindi credo che oltre a essere una meravigliosa occasione per questa serata sia anche un segnale, se volete anche di natura amministrativa, politica, il segnale di una realtà che cresce, aumenta il numero di visitatori, inaugura gradualmente altre zone, altre aree, diventa più fruibile, che si avvicina agli standard più elevati della fruizione dei beni culturali nel mondo, che devono essere i nostri standard. Noi abbiamo in Italia risorse culturali che non ha nessun paese al mondo con questa densità, con questa concentrazione. Spesso siamo un po' abituati a vivere di rendita. Dobbiamo invece queste straordinarie risorse migliorarle, valorizzarle come stiamo facendo qui a Pompei.